Come siciliano io sento il dovere di invitarvi a collaborare per salvare, per far crescere, per non far chiudere una scuola, una scuola che porta poi un nome importante, il nome di Nini Cassara. Io ho seguito purtroppo le vicende luttuose della mia terra e in queste vicende ha un ruolo importante, l'ha avuto Nini Cassara che è stato assassinato vigliaccamente. Ma la scuola può far superare anche il rancore, perché la scuola è cultura, è conoscenza, è superamento del dolore per la ricerca della felicità intellettuale. E siccome questo può essere realizzato attraverso l'apertura, il sostentamento nei confronti di una istituzione scolastica, io vi invito a farlo. Amici siciliani che mi ascoltate, pensateci un momento, la nostra terra è abbandonata perché anche noi certe volte la abbandoniamo, noi siamo responsabili del nostro degrado, non pigliamocela con quelli che stanno al nord, i veri autori del male siamo noi, superiamolo con un atto di grande generosità. Grazie.